Allora, questa roba è molto importante. Per tutte le persone che vorrebbero che io reagisca ai gacciaiat, non posso, perché praticamente io sono una di quelle persone che non reagisce. Cioè, se guardo un video abbastanza cringe e roba del genere, sto tipo là a fare, non lo so, ok? Sto tipo là a fare delle facce strane, vorrei evitare di far vedere delle facce, vorrei evitare di traumatizzare qualcuno con le mie facce, consigliatemi qualcos'altro. Per lo speciale 500 barra 600, se ci arriviamo, però siamo praticamente quasi 600. Grazie mille, vi love, con un cuore che adesso la mia gaccia farà vedere. Boh, ciao!